ciao sono luca manelli e in questo breve video voglio spiegarti come puoi inserire una finestra tra due muri la prima cosa che vado a fare quello di andare a inserire la finestra o due muri con spessori differenti questo è il punto di giunzione ora vado a inserire la finestra sul muro più piccolo faccio un clic e vado a definirne il verso di apertura questa è la finestra inserita possiamo vedere che nel muro in cui è stata inserita abbiamo la rappresentazione corretta mentre logicamente nell'altro muro non abbiamo una rappresentazione corretta visualizziamo in 3d il risultato e abbiamo la stessa identica cosa per cui abbiamo la necessità nella parte di destra di andare a visualizzare la finestra per poterlo fare ora con archicad 23 andremo ad utilizzare lo strumento forometria faccio un clic sullo strumento e vado ad aprire la finestra impostazioni come prima cosa vado a inserire come punto di inserimento quello in basso in mezzo vado inserire un'altezza rispetto al piano di 100 centimetri che è il valore dell'avanzare della finestra ora per quanto riguarda il dimensionamento vado ad inserire 150 centimetri che è l'altezza della finestra per quanto riguarda invece la larghezza vado a selezionare la finestra e vedo che è di 90 centimetri io devo inserire la forometria sulla metà della finestra per cui dovrà avere una larghezza di 45 vado a impostare un valore pari a 45 centimetri in modo tale ora da inserire il foro nella maniera corretta faccio un clic su ok lo vado a inserire in questo punto e ora andandolo a selezionare lo vado a muovere sulla metà della finestra questo è il risultato a livello tridimensionale il risultato è corretto ora dobbiamo sistemare l'aspetto 2d vado a selezionare il foro apro la finestra impostazioni come prima cosa all'interno di pianta e sezione vado a disattivare i retini coprenti e per quanto riguarda il simbolo vado a modificare il simbolo sezionato e scelgo senza simbolo confermo con ok e questo è il risultato possiamo vedere che abbiamo ancora il profilo del muro per cui seleziono nuovamente la forometria apro la finestra impostazioni all'interno di pianta e sezione faccio scorrere dove abbiamo i contorni vado a selezionare nascondi confermo con ok e questo è il risultato se andiamo all'interno della finestra 3d possiamo vedere che abbiamo inserito una finestra a cavallo di due muri con spessori differenti